Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con il primo episodio di una nuova serie. Ragazzi, oggi iniziamo insieme Brothers A Tale of Two Sons Remake. Questo titolo qua io lo attendevo anche se in passato l'ho già giocato. È una serie che vi ho già portato sul canale ed è una delle prime serie che abbia mai portato sul canale. Quindi, se vogliamo, è un gioco che va indietro un bel po', d'accordo? Diciamo agli albori del canale, d'accordo? E questa è una di quelle cose che mi fa piacere riportarvi e una storia che vale la pena rivivere nella sua versione remake. Io vi devo avvertire però che questa è una storia molto pesante, d'accordo? Io perciò spero che siate psicologicamente pronti, d'accordo? Detto questo, andiamo, gioca. Nuova partita, giocatore singolo, si va. Camarcotto! Vado, questo gioco ragazzi non ha le opzioni grafiche, lo sapete? Non puoi scegliere niente, solo la risoluzione e la profondità di campo. Nient'altro. Ho giocato all'originale al suo tempo, bel giochino. Sì, anch'io. Ve lo sto riportando anche perché è breve. Vado, 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 vado. Gli sviluppatori sono gli stessi da Way Out Detector. Oddio, sai che non lo so? Mi sa di no però. Il gioco assomiglia, però non credo che siano gli stessi, ma potrei sbagliarmi. Ma'hi. Ma'hi. Ma'hi! Ma'hi! Attar! Attar Ma'hi! Attar! Attar Ma'hi. Ok. E siamo in game. Allora, sì, me lo ricordavo. Questo è uno di quei giochi che va giocato. Sono i due grilletti e i due analogici, con cui devi controllare i due fratelli separatamente. Si può anche giocare in co-op. Da Luigi gazzimile dei likes. Ci vuole un attimino a prenderci la mano. Starbury Studios, lo sviluppatore di Versa Way Out. Eh, sì, 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 sì. Ma non mi ricordavo bene. Tavolambi. Via. Allora, adesso... Due vanno... Vanno utilizzati insieme. Esatto. Ok. Mi ricordavo. Ho passati anni, ma... Mi ricordavo. Ehi. Beh. Eh. Come devo fare? Ah, è per due persone. E come diavolo ho fatto? Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Sono un cretino. C'è la corda. Eh, eh, eh. Ok. Scusate, scusate, scusate. Ok, ok. No, 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 no. Ho visto la corda. Ehi. Da! Ok Praticamente dovete immaginare Il pad diviso in due Un lato controlla un fratello Un lato controlla quell'altro Sono i due grilletti 1 e 2 E i due analogici E' peculiare questo gioco Ciao Wolf Ciao Motenai Da dei non ben trovati DLC di Joe Empires No, quello non penso che lo proverò E tanto non è che ci sia una grande differenza E' uscito Sicuramente su PC Lo sto giocando su PC Game Pass Oddio Non lo so se è su Game Pass Io l'ho preso direttamente su Instant Gaming No Mai Allora Grazie mille dei likes Da si sanno le specifiche PS5 Pro Solo rumor E quindi Non c'è niente che possiamo fare Nostro padre sta male E dobbiamo Andare a Cercare Questa pianta Per curarlo No No Niente Non ci fa andare Stronzo Domani fai le fette di 7 riberti Esatto No Registro tutto Ok 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 Forse deve essere legata a quell'altro Ok Andatemi solo un secondo Ragazzi Devo vedere una cosa Mi dovete Mi dovete perdonare un attimo Andatemi solo un attimo Che devo assolutamente controllare una cosa Un attimo solo Perché Non capisco Ok No ok 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 Perché non mi compariva una cosa Beh Deve essere Una sorta di Di glitch Va bene Perdonatemi Eccoci qua Hai cominciato con The War Ragnar Ok Gran bella avventura Tutto bene C'era un problema All'inizio ho avuto qualche Qualche problemino Adesso è È più una Aspetta Ok Si può salire qua Oh che palle questo Che malefico Ok Quindi Adesso No eh Va bene Vediamo se possiamo andare da qualche altra parte Non ci fa scendere Non ci fa scendere Dove bisogna andare Forse di qua Ah mi sai sì Ok grande Ok Ok Hanno aggiunto qualche novità Oltre ai miglioramenti grafici Ah ok Questo non lo sapevo Sapevo solo dei miglioramenti grafici Che bello Sto chiedendo se All'epoca mi piace molto e mi devastò anche molto Sì Ok Aspetta Ok di qua Dopo delle volte Dovendoli controllare tutte e due Ti rincoglionisci un po' Madonna che testa di glande costuio Oh Ok 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 Oh, oh, oh. Bene, e ce ne siamo liberati Il cane lo sta inseguendo, perfetto Direi meraviglioso Ma queste sono ulteriori panoramiche Sono belle però, devo dire Però vabbè, non perdiamo eccessivo tempo Giriamo Allora, vediamo un po' E quindi? No eh Bellissimo Ah ok Una cosa va fatta con l'uno e una con l'altro Perfetto Ma di base è un gioco di Di controllo simultaneo Più o meno cooperativo E di enigmi Che bei posti Grazie 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 Ma che diavolo Ah vabbè Ah vabbè L'acqua è bassa qui E dice un ubriaco Un ubriaco E' robin Il gioco è Brothers A Tale of Two Sons remake Wow Che succede? Che succede? Ok Ok motor Entwickler Ogni Ecco miseria maledetta ора 自由mente sennò non ci capisco niente ok la redizione guarda ma come me la gira sta visuale del merda dai sbrigati sbrigati guarda che panoramiche che fa come ti fermati con sta visuale del merda ma perché continuo a girare così fermati fermati così guarda come gira ma perché te la fa girare così va mi sta avvenendo il mal di mare fermati che fastidio niente ho imperterrito continuo eccomo mi guarda guarda che roba chissà che cazzo serve automatizzare la visuale che gira così ti manda solo ti manda solo fuori che fastidio non gli è venuto in mente il tizio sulla balla di fie non sta a fischia boh non lo so che sta a fa allora aspetta esatto devo salire con lui no che cavolo fermati vai via ok vai sì ho capito si va bene ok ma vaffanculo allora sincronizzarsi con entrambi non è facilissimo che bella musichetta però cosa c'è di qua sì lì c'è la ruota da criceti oh un sacco di conigli beh ah beh niente non serve a niente non serve a niente Eh no, l'unico problema è che Aspetta un attimo, mi sa che devo mettere quello piccolo A girare Si controllano entrambi contemporaneamente Ognuno ha il suo analogico Diciamo Letteralmente sollevando Le pecore Guardi le palle No, niente Non viene bloccato, ok Mi sa che ce le devo mettere tutte e quattro Che bellette le pecore, vero? Sì Fermila No, dove va? Quella Fermi Donna mia, che palle Qui Dai, forza Su Qui Allora, adesso vediamo un po' No, niente Niente Vanno tutti quanti di qua Niente E allora non è quello che pensavo Oh, cos'è qua? Ma andato via L'ho liberato così Senza motivo Vabbè Non è molto carino Va bene Allora Abbiamo capito che In sostanza Le pecore Non servono a niente Per abbassare quello Quindi Esattamente cosa dovrei fare? Ma Ah ma era Era tipo un achievement Ah Ah va Le pecore nella ruota È vero Perché non ci ho pensato prima? Ne ho un po'? Ah, proprio con semplicità Ok Benissimo Ne bastava una Senza troppi casine Io pensavo il peso Delle pecore Capito? Invece no Era semplicissimo No Le pecore che Che Fanno finta di essere criceti Va bene Grazie Perfetto Le pecore fanno vedere voglia di kebab Sì Anche a me Grazie Oh oh Wow Mi c'è il cane di prima Ehi Sento un ruggito Da questa parte Che succede qui? Oh oh No, cos'è? Oh, un troll Cos'è? Ehi Maru Chiamo a tenai Maru Buona di Da Gioco si chiama Brothers A Tale of Two Sons Ok, che faccio Aiuta Pare di sì Cosa fa? Cosa fa? Oh 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 Che figo Ok Qui invece Solita panoramica Pare di sì Grazie Se non devo dire è proprio la visuale Ok Ok Ah Ok Mi sa che Arriverà e sposterà il tronco adesso Vero? Bam Eccolo Eh gentile Un sacco di funghi sulla schiena Ma invece no Lui preferisce sempre lanciarci Ah 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 va Ok Doppiamente gentile Simpatico Il gigantone troll Ok Ah, ok Non capivo cosa dovevo fare Invece mi sa che Hm Musica molto fiabesca Ok, adesso però Ovviamente devo sempre aspettare lui Eccolo qui, infatti Ah, la faccio Lui proprio zero problemi, insomma Non so, aspettarlo di nuovo Che bellino l'ambiente Maxfield, ciao Sì, è Brothers Il remake è uscito proprio oggi 1 e 1 Che faccio? Ah Ah Ok, no, questa non me l'aspettavo Sì, sì, è molto carino Molto Ok, no, questa non me l'aspettavo Il gioco è Brothers A tale o two sons Uh, mi ricordo questo Aspetta Sarà tutto un Un sistema di enigmi Eh sì Wow, che figo Veramente bello, sì Ok Ok Ah 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 ok allora adesso vediamo un po' come funziona qui ah ok ah guarda un po' bisogna incastrarlo bene bisogna farlo passare ah molto figo questo ok chi me lo sta chiedendo il gioco è brothers a tale of two sons e remake si ok e adesso se non erro bisogna incunearlo male male esattamente però contribuendo a fare cosa ah ok si facciamolo una alla volta a sto giro che non mi sento molto sicuro tamar cotto andiamo di qua hm e basta così con semplicità è così semplice davvero no mi sa che era a tempo vabbè ho fatto sufficientemente in fretta è quel tronco sospeso ok Questo tè ferma temporaneamente la ruota. Questa fontana era così per bellezza? Pare di sì. Almeno per adesso. Vabbè, immagino che... Sì. Ok. Ok. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta un attimo, eh. Devi vedere se per caso... No, quella corda non ci si può aggrappare. Di qua, invece? Forse... Se vuoi girare un altro po', non lo so. Grazie, viking, ciao. Ricordo la versione mobile, ha finito in pochissimo tempo capolavoro? Eh, questa... Io lo giocai sempre su PC, ma la versione... Eh, non sapevo neanche che ci fosse la versione mobile. No a tutto. Per un vero. vediamo dove vado a finire oh no aspetta ma quindi ci deve andare pure lui questo l'ho semplicemente bloccata ok 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 bene quella quella rimane in posizione non la devo non la dovevo tenere ah ok però si richiude questo ok ora si passa a quest'altro ok mentre un fratello va di qua quest'altro va di là mi sa che aspetta eh ecco qua si 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 è così perfetto no ho sbagliato scopa merda ho mollato il fratello sbagliato merda eh lo so purtroppo è così eh lo so perché un grilletto è un fratello un grilletto è quell'altro e anche gli analogici sono divisi in due ogni tanto mi viene da mollare quell'altro perché non mi ricordo quale è l'uno e quale è l'altro ok no adesso l'ho mollato giusto ok bene 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 ok ok dovremmo esserci e adesso se tutto fila liscio ci riuniamo giusto yes salve ben trovato no forse è il caso di non disturbarlo non mi sembra non mi sembra propenso alle chiacchiere amichevoli eh me voglia spesso andora è è un po' sì eh Ok, adesso Vediamo un po' Come funziona qua? Ah, che gioia Bene Grazie a Dio non ne ho fatto cascare nessuno a sto giro Bene Sti fratelli sono alquanto Simpatici però Questo? Ah, ok Allora, adesso, aspetta un attimo No Perché non l'ha preso? Perché non l'ha preso? Dai No, qui non ho capito che è successo No, qui davvero non ho capito che è successo Non so perché non l'ha preso Ok Ma Ma Eh io lo sto premendo il grilletto C'è qualcosa che non mi quadra A meno che non sia mega istantaneo subito E se poco poco sbagli lo fai un po' più in là Sei fottuto Eh, mi sa che è quello Andiamo Solo però Allora perché non vale anche con lui? Questa cosa mi Mi quadra poco Sono un cretino Scusate Non è venuto giù Sì, è così Wow E si va verso l'ignoto Oh 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 Via Via, 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 via E' finito a crollare? Sì Bene Eh Momento Lara Croft No, è lei? Eh, la moglie di quello di prima? Povera Tenuta prigioniera mi sa Eh sì Allora Vediamo questa leva cosa fa Ok, no È per aprire la gabbia Ma Ok Purtroppo Non se può fa Per adesso Allora Ok Ah Devo fare piano Devo essere stelta Ragazzi Ancora più stelta di così Ok Ok Non ci passa Lui sì Piano 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 Altrettanto piaaaano Altrettanto piaaaano Stealth 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 assoluto Stavolta non posso usare una bomba atomica o un bazooka per lo stealth Bene Bene Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ok Adesso Liberiamo lei Bene Perfetto Vai ad aprire Va bene L'abbiamo liberata E Ci da una mano La risposta è no Ok Oh 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 No cazzi Ok aspetta Mo come funziona Ah mi sa che lo so Aspetta 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 mi sa che so cosa devo fare Lo devo intrappolare Ok Ok E' qua? E' qua? Vado a fare in culo E' qua? Ehi? A posto Ciao Oh adesso ci passi la gara Grazie Gentilissimo Sì sì, lagnati, lagnati Ecco, ciao Sì sì sì, lagnati, lagnati, vai Grazie Oh grazie che sei tornata a prenderci Ah giusto, aspetta Mi chiedi di... Ah ok Ah è tornata perché c'ho bisogno dell'aiuto nostro Ecco perché Se no sti cazzi Insomma Grazie a tutti Ok però adesso Mi sa che è l'unica cosa che possiamo fare Questa qua Eh vabbè no no ok però dovrebbe andare bene Ok perfetto Bene 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 Benissimo No ci ha aspettato Grazie troppo gentile Oh che teneri Oh cacchio Oh oh E questo Ah boss fight Ok Ah aspetta No Quindi Come Ah bisogna Ok si Dobbiamo fare così Va bene è semplicissimo No Ah 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 te n'affanculo Oh perfetto Non pensavo si Appendesse Ciao Perfetto Che tenerezza Poverino Poverino solo perché era brutto E perché volevo uccidermi Dettaglio Dettaglio del tutto irrilevante Però Dai Magari aveva fame Ok però diventare il suo spuntino Non è proprio il massimo della vita Dettaglio del tutto irrilevante Dettaglio del tutto irrilevante Dettaglio del tutto irrilevante Emo Oh 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 Emo Eh ma dove Eh sì ok Ma Nel senso Non ho capito dove devo andare Di qua Ne dubito Eh appunto Aspetta aspetta Forse Ok 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 Quindi si può fare un attacco Più o meno Ecco sì Lui sì che aveva fame Gente impiccata No bene insomma Minchia Vedete questo Questo gioco è più Scuro di quanto sembri Credetemi No No vaffanculo è rimasto indietro Il fratello Va a cagare E controllarli sempre Tutti e due Il peta ti ponerebbe Per non essere Fatti sbraniere Il lupetto La mia proposta È allora Che il lupetto Sbrani uno dei peta No Se ci tengono tanto Io non l'avrei buttata La torcia Però vabbè Lui sembra Tranquillo Che non ci saranno Problemi di sorta Va bene Ciao universo Magari Quindi Quindi Ah va bene Bastava interagirci Io pure certe volte Una volpe Le tasare Ciao Grazie mille dei likes Ho detto io Che la torcia Non la dovevi buttare Che si vede a mala pena Ah ok Grande La questione dei lupi Secondo me Non è ancora risolta Vediamo cosa c'è Di bello qui Minchia Questa è un visuale Veramente Desolata Questo mi sta tanto Diramo che si romperà Oh cazzo Oh cazzo Questo mondo Oh sono separati Cavolo Non è solo A Nuna No Nuna 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 Oh cristo No Oh merda Ma sul serio? Oh cristo Madonna che storia Emo? Emo? Devo far scorrere che fosse il fiume a contare Con il drago nascente Grazie Maledetto Tutto sto casino è caduto in acqua lo stesso Queste voci queste cose Vi sto andando un po' a scatti ragazzi Abbiate pazienza Aspetta ma questo è un sogno Ciao 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 Quindi allora Ma che Ma che diavolo Ma che Ma che è successo Ah ok Siamo ancora lì Ma che è successo Ma che è successo Ok Bene Già meglio Infatti si Sembra che tutto mi voglia ammazzare Perché Perché Non avevo visto la corda Non avevo visto la corda Sì La No, è la moglie e la figlia Le erano bruciate nell'incendio E lui voleva farla finita Cristo sa Non possiamo fare niente? No, non possiamo fare niente noi Non possiamo letteralmente fare altro? Aspetta un attimo Cosa c'è lì? No, 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 non è la prima volta che ci gioco Ma ci ho giocato tanto tempo fa Quindi alcune scene non me le ricordo Tipo questa me l'ero completamente dimenticata Però so che il gioco è pesante Però mi ricordo bene come finisce Quella è impossibile scordarsela Ok Aspetta Aspetta Dite che... Sì Ok Ok Perfetto Ho bisogno di impiccarsi per morire in quel posto di monia Quanto pare Che figo Questo è bello Questo è bello Oh me la ricordo quella parte Alla torre Ok Ok Altro Passaggino per nulla pericoloso Ecco Che succede mo? Alla torre Alla torre Alla torre Alla torre Ok Va bene E qui ci sono delle capre Quindi Che ci faccio Ah va Bello Ah ecco Ok ecco che mi servono La miseria No 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 Continuo così Mi stanno facendo male le dita però Fuori di tenere premuti i grilletti Ma il giocato è diverso all'originale No Cioè dovrebbe essere uguale Più o meno Nel senso dovrebbe essere il remake È migliorato graficamente Ma dovrebbe essere uno a uno Cioè però tecnicamente è un remake Perché gli asset sono diversi Non credo che Credo che sia stato rifatto uno a uno Madonna quanto sono brutti Sottospecie di muffloni Stambecchi Ma la faccia è orribile Eh O gli asset dovrebbe essere diversi Ma credo che sia rifatto uno a uno Ah sto tipo Vero Ah Ok Va bene Quindi Ok Cosa quindi dovrei fare Aspetta No Ops Va bene Allora Ehm Ne cominciamo Vediamo cosa c'è di qua Andiamoci con tutte e due Perché tanto Aspetta un attimo Non è che per caso posso Un attimo Sì Lo tiene Perfetto Aspetta Aspetta Forse è meglio che tu lo odia a me Ok Ok grazie Aspetta Grande Mmm Ok Simpatica casetta Era proprio bellino Sì mi ricordo Nelve Allora Quindi Tu Devi fare Eh vabbè quindi Mi ho concluso qualcosa No Sembra di no Ah ecco aspetta Aspetta no Invertiamo Ho fatto ballare l'inventore Ah sì Ma che cazzo Magari hanno cambiato il filo Ah boh Va bene E una volta che l'abbiamo fatto ballare Cosa Comporta questo Mi sa niente Mi sa questa era una cosetta in più così Secondo me Pure secondo Sì è probabile Va bene Ragazzi allora Io direi che ci possiamo fermare qui con la puntata di oggi Eh abbiamo fatto un bel pezzetto E con tutta probabilità domani lo finiremo D'accordo? Quindi perché dura tre ore e mezza barra quattro Quindi io penso che sia Eh Diciamo la durata di più o meno due live All'incirca Ok Noi ci vediamo domani ragazzi Grazie a tutti Mi raccomando Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi anche al primo canale Seguitemi su Twitch Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto E qui sotto in descrizione Trovate come sempre tutti i link a miei social e community Come Instagram e Telegram Tutti i link per supportare il canale Tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming e link a Patreon Link alla playlist con tutti quanti i video Della serie di Brothers A Tale of Two Sons Che con Remake Che con oggi inizia E anche il link per acquistare il gioco E se l'acquistate tramite questo link Aiutate e supportate moltissimo il canale D'accordo gente? A presto